Salve a tutti ragazzi sono Alex 2019 HD e qua con me c'è Vuol sponare! Yeah! Ahia! Si si è fatto male da solo Vabbè questo è lo spawn del mio server Allora prendiamo un po' di legna Iniziamo in questo video Questo è il primo episodio Per fare un mondo Facciamo un let's play Si è dato su Minecraft normale senza mod A caso si Potevamo farlo sulla Yokebox però non abbiamo il server Quindi va bene anche Minecraft normale Il primo episodio direi che Di farlo durare un po' meno Perché è poi una specie di introduzione Come ho fatto nella mia serie Della TechKid Ah! Apro una parentesi sul mio canale E ci sarà Cioè questo video verrà caricato Sul mio canale Wolfganner Io non ho canali avviso Esatto Quindi probabilmente si creerà un canale in futuro Forse vi diremo Comunque se se lo creerà Se se lo creerà Possiamo semplicemente condividere il video Solo dalla mia parte Tipo facciamo un episodio della sua parte Un episodio della mia Se me lo prego Sì esatto Adesso vedremo Allora Quanta legna hai tu? Io 16 16 Eh farla diventare Eh assi di legno Di quercia Sì un attimo ne prendo un altro albero Eh anche io Iniziamo subito a farci un mini rifugio Diciamo E poi faremo una bella casa Appunto Voglio direi di farlo in questa pianura fa alla bella casa Duovacasa Adesso vediamo Adesso vediamo E comunque potete vedere che la skin fighissima Sì Non ce n'abbiamo Un m Damasco Un m brutalone AdessoANK Ammazzalo perché serve un cibo Ok Buon pytato Sì Ok ammazzo anche un maiale a non mi colpisce il aliaschie un altro maiale il corretto con il il riscosso ok mi sa che prima di perdere tutto sto tempo da ammazzare la gente senza spade è meglio che ci facciamo iniziare a farci subito le prime cose di base la faccio io la workbench allora dove vai? eh no ti so aspettando comunque io ho già meno 4 cosciette ok boh ti faccio una spada anche per te grazie io ho il piccone un piccone solo fan perchè non ne faccio due ne faccio due no 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 perchè quello in legno è inutile ci andiamo subito a prendere quello in pietra che c'ho così eh prendi un po' di pietra prendi anche almeno 10 di 10 10 almeno 10 poi se ne vuoi prendere anche di più va bene ti ho dato la spada comunque dove? ah eccolo qua allora io direi di tipo recintare qua e farla qua la prima casa io io inizio già a fare le mura io prendo i materiali essenziali ehm facciamo così per il primo episodio direi che una casetta fatta così a lazzo a questa è l'entrata poi chiudo anche da questa parte poi faremo anche delle porte qualcosa di più decente tieni con il pietro ah hai fatto anche la spada si il pietro dico si lo so abbiamo un po' qua e io direi già di andare un secondo giù con quella crepa che abbiamo trovato quella crepa? quella la in fondo e lei la... si ho capito aspetta che mi crafto due porte sempre meglio averle no un attimo adesso io trovo del carbone cerco di trovare del carbone no vabbè io andai semplicemente lo stai facendo e andiamo e andiamo dai buco un po' lì buco un po' la ok qua facciamo una mini caverna direi si stai trovando qualcosa non lo so non lo so chi non lo so chi non lo so chi non lo so chi è a carbone che cu ok scava anche di qua basta basta vini su vini su no aspetta mi riesco a prendere il carbone ma vabbè prendi lo tutto ci serve per la torcia a certo c'è c'è un po' le mostri c'è un po' le mostri serve qua normale ok ok no perché non volevo che si specifica no no non credo mezzicolo carbone tanto vado a vedere un secondo quella che parla giù si oh un po' di mele ho trovato tre mele eccolo prendila qua c'è subito del ferro spero di non farmi del male subito a morire comunque io ho la texture di dragon ball eh quando metteremo il suo canale quando faremo un video con la sua schermata eh si vedrà quella tua si due carbone due di ferro ho trovato aspetta che qua c'è niente sta già tramontando il sole quindi direi di eh fai le prime torce già mi fatti otto buono ok già è spavolato un creeper quindi non è buono questa cosa ecco sto prendendo del carbone e del ferro direi di non fare l'armatura in diamante per ora troppo costosa poi non abbiamo nemmeno in diamante vado fuori dalle ascizi aspetta che sta già venendo notte devi stare attento perchè ok vado a fare delle ascizi aspetti 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 modi di si continueremo domani in questa caverna diciamo si ok ok torna in casa che già notte ok ok fai in casa iniziano già a spawnarla gente cosa hai messo qua c'era buono buono bravo dei bistecchi arep ho cinque mi sembra una tua faccio gioia due cesti face due cesti perchè sempre metodo scusate ci parla un po' strano ma ho il raffreddo ora quindi taradada dai non che soffiare in mano scusate adesso mi soffrino parla tu intanto sì ok comunque chi è schifo ragazzi non credete ci senti perchè è un criminale ragazzi ok ma cos'è fatto? e metto a cucinare anche il mio ferro che ho trovato vabbè comunque devo andare va bene ok finiamo il video adesso perchè comunque sono già 8 minuti quindi vabbè comunque credo che può andare bene per il primo video comunque io tu vado a farlo ok per il primo video ragazzi è benissimo arrivederci a tutti da ritimere 11 hd e e vufu ciao ciao